20 febbraio 2018, ore sono quasi le 5 l'orario del campanile, sto scendendo dal paesino di Somana, sopra Mandello dell'Ario, provincia di Lecco, ecco qua la strada, dunque è il tramonto quasi e si vede laggiù la cittadina di Mandello dell'Ario e il lago di Como dalla sponda del ramo di Lecco. Mi hanno detto di stare attento con lo smartphone e di non muoverlo quando sto registrando il video, e infatti sono molto preso dalla tensione e muovo lo smartphone in continuazione, però è giusto anche riprendere bene, anche se poi devo stare attento alle parole che dico, di non muovere lo smartphone, giù c'è il Mandello dell'Ario e oggi c'è un po' nebbioso, fosco, comunque si vede abbastanza bene, ci sono questi alberi, ulivi, sembra di essere alla riviera Ligure, sono quasi le 5, sto scendendo a piedi dal paese detto prima e mi avvio verso la stazione di Mandello dell'Ario, devo fare un po' di chilometri a piedi, non sono tanto, sono solo 4 chilometri a piedi, in discesa ce la faccio tranquillamente, in discesa, devo stare attento alle macchine che arrivano, che mi vedano perché qua vanno in giro un po' a loro modo, ecco, qui è il telefono, lo smartphone, ecco là di fronte un altro paesino, di fronte a Somana, lo chiamano Longio, poi è una frazione sempre di Mandello dell'Ario, Longio, le montagne oggi non si vedono tanto bene, si vede però ecco là di fronte la grignetta, sopra, ecco proprio di fronte a me, e sopra quel cucuzzo lì si vedono tre punte, è detta la grignetta, la parte sempre della, fa parte della grigna, ecco qui è il sole di fronte, e sembra facile fare un video, ma poi stare attento dove si cammina, pensare alle parole appropriate per fare Youtube, non è poi tanto, tanto facile, a eseguire un video così tutto all'improvviso, istantaneo, meno male che prima mio amico mi ha detto che il video è bello, però devo stare attento, mi ha avvisato, lo ringrazio, di non tremare, ecco qua i fili elettrici, questa è una casetta in affitto, a buon prezzo, dunque, dunque, la strada, mi incammino, mi incammino, volevo fare il picnic, ma qui fare il picnic all'aperto, poi ognuno che passa mi dice buon appetito, mi chiacchiera assieme, non è come a Milano, che ogni persona fa i fatti suoi, qua, quando arriva un estraneo, non di questo paese, subito domandano chi sei, cosa fai, guardate che bella la vista qua di Mandello dell'Ario, anche questa villetta è bella, villetta, villetta con giardino e terrazzo, 200 euro al mese, una villetta, è bello, bello, peccato che ora attualmente non ho i soldi, devo pagare l'affitto di Milano, però, chi volesse, io faccio pubblicità riguardo questo paese di Somana, perché è molto bello, poi ci sono anche le comodità da arrivare, i bus, la strada, non è un paese appeso un filo a una funivia, che bello qua, ah c'è una fabbrica là sottostante, e come ripeto prima, già detto la città sotto, e devo arrivare fino là, per prendere il treno da Mandello dell'Ario a Lecco, vi saluto, guardate che bello il tramonto, da questo Youtube del 20 febbraio 2018 alle ore 17, saluti da Aldo.